Allora, questa domanda la leggo pure in senso che mi muto, la leggo pure per le varie streaming di tutti noi, pure per quella di Gianco che cercatelo su twitch.tv slash gianco888 se lo volete trovare Per cattola ragazzi Dicevo, mi chiedono, cosa consigli a chi vuole iniziare a fare stream e crescere su twitch? Per prima cosa devi streamare almeno 720p 60fps, minimo Oltre a questo devi avere ovviamente la grafiche curate, quindi ti parlo di overlay, transizioni e queste cose Oltre a questo cerca di collaborare con quelli che hanno il tuo stesso parco views in modo da shararvelo e allo stesso tempo incrementarlo e ingrandirlo Non c'è un vero e proprio metodo per crescere su twitch e poi cerca di puntare su quello che è il tuo lato forte, la bravura nel gioco, la simpatia Entrambe O se no il fatto che magari sei l'uomo soundboard tipo deluxe e queste cose No, brutto l'uomo soundboard Sembra quasi tipo un brutto Per gruppo Beh non è che è sbagliato Nooo, ma è che sta combattendo Ma che cavolo fa' questa? Dai Saturno è una situazione di merda E io se non ti ho messo malissimo No no predominantly Fermo, campriati, campriati Le ho staccate un attimo Il portaforte sono letali E il portaforte sono letali Quella una al portaforte gli ho fatto headshot Non ho cato La mia distanza è la pistola silenziata Due noccati Tre noccati Mamma mia se faccio la reddit clip sappio pure l'ultimo Sappio pure l'ultimo è reddit E qui, qui, qui tavolo Lasciala, non lo vedo, tranquillo Cazzi queste pistole si prendono in testa Fanno 86 Un colpo, un colpo dei due Posso avere colpi di cieco, di pompa, di AR, di SMG Non ho nulla Non ho nulla Oh ti è fermo E beh tira te la vai da 200 Ma te così non c'è in cazzo Ah no si c'è 25 Tutto colpi di AR, pompa e cieco Pompano ne ho tipo Io ne ho 4 nel caricatore E basta Arrivo Regà io ho bisogno di colpi di cieco, AR e SMG Allora, cieco non ne ho Dove sei? AR non ne ho SMG ne ho 30 Dov'è? Ah ce l'è tu Ci sto io Dov'è? Dai lui Rispondimi, guarda Sì 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 Nessuno ha colpi di AR, pompa e cieco Allora, io ti dirò Allora il mio inventario Quattro colpi di pompa 10 di SMG Zero di AR Due granate fuzzolenti Ok Un tac Checo almeno Checo c'è no io Dai vieni che tenendoci Ce ne ho 16 Ti ne ho risposto a dare A vedere grazie Ragazzi c'è gente a capo town Vivite qua Vediamo i campi di grano C'è gente a capo town che sta salendo su Cazzo però sono del solo Ragazzi No sono qui io Solo dove? Sotto di gabbo Poi salendo su dove? Ma è uno Ma capo Ma dici gabbo town E sono fuori dal gabbo town Assurdo Mi chiede Non ti dico Non ti dico Giusto il tempo Di farmi danno Tu Capo lo prendi da dietro Quello Eh L'altro dov'è? Sinistra Sinistra 308 Direzione Casa sedia Lo sto danneggiando Quella puzzona E la mia Nemesi Lasciatelo a me Ok Poi provieni Che ci sono Pozzette Dov'è? E pozza grande Fa da me Oh cazzo Arriva la zona Delo Eh non posso Vabbè sticato Pozzette pozza grande Arrivo io Delo a Carriare No Non c'ho poche band Ragazzi Per quello Aspetta 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 Guarda 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 Lì Ci vediamo Nello Yemen No Si è salvato Da dietro Ho un team dietro Ragazzi 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 Da dietro Da dietro Guardiamoci Questi da dietro Che sono Comodi Che direbbe Gabbo Io li sto facendo Un clan Vinta la zana non ho materiali ragazzi per fightare io raga sono alone ok è noccato quello lì si è noccato aiutiamo delu delu e io sto sparando non ho materiali ragazzi devo veloce veloce andiamo 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 ero dimenticato della zona non lo amo non ho niente c'è un jack jack lo puoi prendere o no? si lo posso prendere ma ci sono anche tipo pozzette arrivo fermo no ragazzi sono morto dalla tempesta per colpa di stennetti gamba sei pazzo scusami mi deve stare gamba mi è bloccato prendo la pad 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 toglie due ha il chug? si lo uso io ok puoi prendere il forzo da 5 corri 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 ragazzi gamba salva vengo io vengo io c'è anche il tizio qui fa sparire sto mostro ma sono un cazzo di ciccione di merda salva 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 è gabbo gabbo c'è power no c'è uno sotto c'è uno sotto c'è uno sotto oh dio no avevo scambiato per il lama eh perché oh cazzo c'è uno zingaro qui matto matto outplayati belli questi l'ho proprio outplayati io ho 5 band ho dovuto lasciare tutto il band di Dio ho dovuto lasciare sono stati outplayati dal primo all'ultimo questa merda bravo prendere me c'hai tu però qui c'è uno qui c'è uno tieni non ho più niente andiamo trovato altre band c'è un riportatile venite qua c'è lo io lanciarazzi prendo le bande c'è un riportatile qualcuno lo può prendere al volo eh io no venite da me venite da me per favore raga per favore perché se non lascio il lanciarazzi venite venite lo tiro e lo tiro arriva arriva tutti qua tira 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 bro tira lo gabbo ah finalmente sopra la montagna mi so no 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 sono già andato intorno ok penso di aver capito dove sono ragazzi oh ma cos'è successo qui andiamo nei draghi c'ho uno accanto Gianco quanto materiale hai? eh c'ho 100 e 500 mamma mia quanto larga è qui ragazzi questo è tutto ci materiali tutti ci materiali no vuole far cadere tutto ma è morto quello cimione non è male che erano scarsi come l'acqua in Africa lo prendiamo? vai vai quando volete lì di fronte 273 che sembrano 255 sul bordo montagna ma scusate ragazzi lo sapete che questi disinstallano fortnite vero? ne ha fatto 31 kill porco 2 davvero? oh on fire madonna ragazzi ho fatto una giocata dentro la safe con due tizi quando sono entrato dentro assurda ciao Grazie a tutti.